Gormiti Eccolo lì! Ma come facciamo a superare i cristalli? Lascia fare a me, amico! Kawakai! 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 Ehi, ciao piccoletto! D'accordo, ho spaccato quella pietra luccicante! Questo posto ne è pieno! Adesso basta, finisci! Tu non gli vai affatto a Jenny! Stammi a sentire, non abbiamo intenzione di farti del male, d'accordo? Ma dobbiamo recuperare quel frammento... Perciò ti dispiacerebbe Farci passare... Kawakai! Waka waka! Kawakai! 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 Waka wakaka wakaka waken! Ehi, dateci un taglio. Vi consiglio di smetterla in questo istante o vi assicuro che avrete un bel problema. Per quale ragione hanno iniziato a fissarci così? Sono certo di volerla conoscere. Ma che succede? Non riesco a liberarmi. Ci serve aiuto. Ok! Ok! Track! Track! Kawakai! 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 Non ho idea di cosa tu stia facendo. Però sei davvero carino! Diventiamo amici! Kawakai! 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 Oh! Oh! È energia alfa! Tu sai usare l'energia alfa? Kawakai! 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 Sì! Anch'io adoro l'energia alfa, sai! Però adesso devo ritrovare i miei amici. Kawakai! Un tipo molto alto, con un gigantesco pugno fatto di cristallo, così. E un altro che è piccolo come me. Tu sai dove si trovano? Kawakai! Kawakai! Anno dell'energia alfa! Ovol의 kent Typacone. Ciao! Ciao!